Benvenuti da One PC Massimo Esperti in questo nuovo video teoria ed approfondimento. Oggi parleremo di un grandissimo personaggio, forse uno dei più grandi One PC, cioè mi riferisco a Monkey D. Dragon, il capo dell'armata rivoluzionaria. Lui è il comandante supremo che ha come obiettivo il governo mondiale, anche se quando Koala aspettava sull'isola di Momohiro, rivelò a Belobetti che il loro obiettivo non era propriamente il governo mondiale, ma erano i draghi celesti che lo manovravano. Almeno queste erano le informazioni che loro avevano a loro disposizione. Essendo il loro nemico principale, il nemico principale del governo mondiale, dei draghi celesti e del Gorosei, adesso conosciamo anche il Mesama, oltre ai pirati, a dimostrazione della sua pericolosità, della sua potenza, non solo come forza ma anche come conoscenza, si evince che lui potrebbe avere la taglia più alta di tutti, escludendo i pirati, di fatti è l'uomo più ricercato al mondo. A differenza degli altri membri che portano l'addio, lui ha un atteggiamento molto serioso e molto severo, anche se però spesso lo vediamo con un sorriso beffardo stampato sul volto. Però prima di iniziare il video, in modo più approfondito, ricordatevi che YouTube dà problemi con le notifiche, quindi iscrivetevi ai nostri social e soprattutto a Telegram, perché lì mettiamo i link diretto per video e live, così siete sicuri di non perdervi nulla dei nostri grandissimi approfondimenti. Ora passiamo a noi e parliamo di Monkey D. Dragon. Lui è il personaggio per noi più enigmatico dell'intero manga, anche più di Shanks. Ha voluto combattere contro il governo, conseguentemente arrivare daghi celesti, e i motivi possono essere moltiplici, uno dei quali, secondo noi una delle relazioni, potrebbe essere che sua moglie in passato era una schiava che appunto venne liberata da Dragon stesso, un po' come il passato di Boa Hancock. Poi magari, proprio per colpa loro, o per loro mano, è morta. Oppure ancora, sempre sua moglie, magari era un drago celeste buono, stile Don Chiyote, che una volta rinnegato il suo retaggio, fu uccisa per ripicca. Da lì nasce la furia scatenata di Dragon, di muovere quindi guerra contro i fantocci. In più occasioni, poi, abbiamo visto una cosa molto importante, cioè Dragon muovere il vento. Quando Savo, Savo, però disse che non aveva ancora abbastanza potere. A Grey Terminal abbiamo visto che Dragon ogni volta che è apparso c'è sempre una tempesta in arrivo, c'è sempre uno sconvolgimento, fulmini, pioggia. Anche Baltigo è un'isola molto ventosa. La sua nave addirittura viene chiamata Wind Gramma, sempre per richiamare il vento. Un'altra cosa molto importante è che Dragon si è riuscito a contornare di molti uomini e donne strani, ma allo stesso tempo fortissimi, nei vari punti del mare. Ivankov, Orso Bartolomeo, Inazuma, Karasu, Morley, Lindbergh, Belobetti e non per ultimo il capo di stato maggiore, Savo. Poi sembrerebbe, un'altra cosa interessante, dal film Z, anche se non è canonico, che Dragon avesse un passato da Marine, anche visto il padre, l'eroe, Garb. Da giovane, una cosa molto interessante è che lui non aveva ancora questo tatuaggio sul volto. Alla sezione di Roger lo possiamo vedere, già incappucciato con questo telo verde, ma non c'era il tatuaggio. Successivamente ce l'ha. Dove potrebbe averlo fatto questo tatuaggio? Abbiamo vagliato più opzioni. Che lo abbia fatto nell'isola del cielo? Diciamo questo perché è molto simile a quello che hanno, anche addosso, non solo in faccia, gli abitanti del posto. Oppure è stato a Wano. Dragon in passato potrebbe essere andato a Wano. O addirittura non a Wano, ma fatto da un samurai, tipo il maestro di Zoro, Koshiro. Anche perché noi sappiamo che c'è stato un momento in cui entrambi si sono incontrati e Koshiro le aiutò con delle provviste. Perché diciamo questo? Perché il suo tatuaggio è molto simile ai simboli sul vestito di Ryuma, The God's Word. E infatti quel simbolo significa Ryu, Dragon. Quindi ci potrebbe essere questo legame molto profondo. Un'altra cosa importante. Perché l'uomo più ricercato del mondo? Solamente perché libera i popoli e gli oppressi? Solo questa è la motivazione? Noi pensiamo di no. Non è solo quello il motivo. Perché anche se è estremamente importante liberare le nazioni, la schiavitù, i popoli che soffrono. Perché noi sappiamo bene che c'è il Gorosei con Im Sama insieme a questi draghi celesti che sono dei fantocci, amore le fila da dietro. E ogni tanto decidono di spegnere una luce. Però noi pensiamo che Dragon, per essere il primo ricercato al mondo, deve essere a conoscenza di un qualche serieto ulteriore. Qualcosa che potrebbe sovvertire il mondo e metterlo nel caos. Potrebbe essere in possesso di un'amma ancestrale. Potrebbe saperne l'ubbligazione. O ancora, potrebbe essere in possesso del quarto Pogne Griff disperso o averne un calco. Ivan Koff infatti affirma che la forza di volontà di Rufy è straordinaria. E anche la sua resistenza quando riesce a superare la situazione del veneno di Magellan. E che quella situazione comprovava ancora una volta i legami con il padre. Suggerendo che anche Dragon avesse quelle caratteristiche immense. Inoltre, quando a Marineford Rufy usa l'Aki del Re per salvare Ace. Dove tutti quanti restano sbalorditi incredibilmente. Garp dice che l'avrà sicuramente ereditato dal padre. Quindi possiamo capire che Dragon è sicuramente in possesso di tutte e tre Anki alla massima potenza. Un po' come Shanks il Rosso. Adesso però passiamo alla teoria sui suoi poteri e la mancestrale. Che potrebbe possedere. Partiamo dal frutto. Lui potrebbe essere in possesso di un frutto incredibile. Esso potrebbe cambiare la situazione climatica che lo circonda. E appunto controllare tempeste, quindi con il vento, i fulmini e magari anche la pioggia. Infatti per salvare Rufy da Baggi sul patibolo fece arrivare un fulmine. Per salvare da Schmoker fece arrivare delle folate di vento devastanti. Che addirittura riuscirono a distruggere dei cannoni. Sempre il vento riuscì a aprire un barco tra le fiamme, dove c'era il piccolo Sabo, per salvare le persone del Grey Terminal. Quindi se Dragon avesse questo frutto del vento sarebbe perfetto per incarnare il concetto di vento della rivoluzione. Così come Sabo, che il suo vice rappresenta la fiamma della rivoluzione, e Nico Robin invece rappresenta la scintilla, l'inizio della rivoluzione. Un'altra piccola illazione in merito sul suo possibile potere ce lo dà il merchandising. Infatti questo potere potrebbe essere stato spoilerato sia in un action figure che in un videogames. Però detto questo, passiamo all'illazione che io e Katakuri pensiamo ancora più possibile rispetto a questa del potere del frutto, e che vi esporrà lui magistralmente come sempre. Quindi passo la palla a Katakuri. Quindi l'illazione più probabile che noi facciamo è che Dragon possega Uranus. Uranus è una delle tre armi ancestrali, di fatti esiste durante il secolo di voto, insieme a Poseidon e a Pluton. La sua sorte dopo quegli anni ci è sconosciuta. Come nel caso delle altre armi ancestrali, il suo nome si riferisce ad una divinità greca. Uranus, infatti, era la personificazione del cielo, il padre di tutti i titani e il nonno dei primi dei dell'Olimpo. Per noi potrebbe essere entrato in possesso Dragon poco dopo l'esecuzione di Gol di Roger. Difatti quando salvò Sabo 12 anni fa nella trama, lui parla di un potere che non è ancora sufficiente. E ci sembra strano che possa parlare di un frutto, anche perché Dragon oggi possiede 55 anni e sarebbe stato già molto forte all'epoca. Non aveva certo bisogno di allenarsi ulteriormente. E invece se si parlasse di Uranus, quindi un drago che doveva crescere per divenire sempre più grande e più forte, ciò spiegherebbe perché Dragon dovesse attendere del tempo. Noi diciamo questo anche riferendoci ad altre leggende che richiamano a ciò. Ad esempio, Rayquaza nei Pokémon, un essere leggendario che generava sempre tempeste, fulmini e piogge. Quindi, l'ultimo drago, vero e proprio, un'arma ancestrale destinata a Monkai di Dragon. Così che Luffy, nella battaglia finale, abbia dalla sua parte Dragon con Uranus, Poseidon e Shiraoshi con Ieri del Mare, e magari perché no, Frankie che riesce a riprodurre Pluton, se non in toto, in versione minore. Inoltre, ci potrebbe anche essere il collegamento con l'uovo di Roger. Infatti, magari se quell'uovo, una volta schiuso, fosse proprio il drago, fosse Uranus, e quindi bisognava aspettare del tempo. Quindi, ci sarebbe un passaggio di testimone dal re dei pirati, che era un membro della D, a un altro membro della D, cioè Monkai di Dragon, che comunque, anche lui, ha l'obiettivo di sovvertire il mondo. Ricordiamoci inoltre, molto importante, il legame passato indissolubile fra Roger e Garth. Magari così, questo passaggio di testimone di amma ancestrale, in attesa del nuovo re dei pirati, cioè Monkai di Ruffy. Un'altra cosa che è molto interessante, sempre con un legame e un richiamo, ai draghi, sono le tecniche utilizzate da Sabo, che sicuramente avrà imparato da Dragon. Collegato a questo video, su Dragon ci sono quelli della volontà della D e quello su Sabo, che vi metterò qui nelle schede del video, ma che puoi ritrovare facilmente anche nelle nostre playlist, in particolare videoteorie ed approfondimenti. Ricordatevi di passare dai nostri social, One Piece Massimo Esperto Italia, dove trattiamo tutto ciò che riguarda One Piece su Facebook. La seconda pagina, One Piece Massimo Esperto e tanto altro, dove trattiamo tutti gli altri manga e anime e film di animazione, il nostro account Instagram e soprattutto il nostro canale Telegram, dove trovate i link diretti, come ho già detto prima, proprio dei video e delle live. Inoltre, ricordatevi delle nostre collaborazioni, Mugiwara Italia, il link di Telegram, e anche Anime Tovers Assemble, sempre il link qui in descrizione. Alla prossima, Pirati, dal Capitano, il massimo esperto di One Piece in Italia. Qui non si fanno teorie, qui c'è solo la verità. Vediamo se l'abbiamo presa anche questa volta. Qui non si fanno teorie, qui c'è solo la verità. Qui non si fanno? La verità è montata.